Perché Gesù nel brano di Vangelo loda i bambini e ce li mostra come esempio? Forse perché essere credenti vuol dire essere ingenui? Niente affatto. Perché i bambini hanno questa caratteristica? Non possono vivere da soli, non possono cavarsene da soli, hanno bisogno di adulti di riferimento, hanno bisogno di genitori, di qualcuno che si prenda cura di loro. Il credente deve essere simile a un bambino, cioè riconoscere di aver bisogno di Dio. Spesso invece, diventando giovani e poi adulti, pensiamo che la fede sia una roba da archiviare, perché è roba da bambini. Diventando grandi non c'è più bisogno di Dio o di certe favole. Invece, se ci pensate anche nel percorso che abbiamo fatto sulla preghiera, su come si prega, su come vivere la preghiera da adulti, mi sembra che uno degli aspetti importanti che ho sottolineato è proprio questo, che pregare serve soprattutto da adulti. Da bambini va bene, perché ci si abitua a fare amicizia con Dio, a relazionarci con Lui, però poi da grandi pregare serve un sacco, perché la vita si fa più intensa, più complessa e di conseguenza non possiamo pretendere di fare tutto da soli, di reggere solo con le nostre forze. Noi spesso siamo come bambini capricciosi che pensano di poter fare a meno dei loro genitori. Siamo persone che spesso pensano di poter fare a meno di Dio. Buona giornata.